Grazie a tutti Il film è veramente forte, sono fresco di performance e sono veramente contento perché il film nella sua interezza è veramente grandioso, spinge tanto, la regia è stata bravissima, noi attori, devo dire che siamo stati tutti bravi, tutti coordinati Coinvolti io direi come vi dicevo oggi in conferenza stampa, innanzitutto i vostri personaggi sono i migliori amici della protagonista di questa storia interpretata da Ludovica Francesconi ma siete la famiglia che lei si è scelta e lei è la famiglia che voi avete scelto E questo è qualcosa che si respira nella storia ma anche dalla vostra passione E questa è una cosa bellissima trovare una conferma di questo genere perché noi lo viviamo, lo sentiamo però insomma vedere che è un riscontro anche per chi ci vede è molto piacevole Gli amici sono un po' la famiglia che ti scegli e noi abbiamo esattamente deciso di creare una famiglia vera Io ricopro un po' le vesti di quelle che possono essere un padre perché sono sempre molto categorica, dico sempre quello che va fatto, quello che non va fatto, cerco di portare sempre Marta con i piedi per terra Io invece la seguo un po' nelle sue follie, la porto quando lei deve fare lo stalking di questo ragazzo anche se gli dico dai smettila però intanto è a me che dice vieni perché so come ti puoi sdebitare Vieni con me ed è bello perché noi gli amici nella storia si sono scelti, noi non ci siamo scelti ma ci siamo trovati subito È vero, non è che lo voglio dire tanto per ma è stato così e rivederlo poi sul grande schermo c'è quei sentimenti ci sono veramente, questa è una cosa bellissima Cosa vi ha regalato? Che lezione, se possiamo parlare così di lezione, vi ha regalato sul più bello? Che si possono fare film belli anche in Italia, scusa, scusate l'ho detto, no no scusate sono fresco di essere, sono molto emozionato però di qualcosa Gaia Sì certo perché io ti salvo sempre Allora ci ha regalato tantissime cose a partire dai legami e quindi i legami che abbiamo appunto instaurato con Joseph, con Ludovica che sono legami che mi porterò con me spero nella vita Mi ha insegnato sicuramente quello che io ho imparato da Marta e come non bisogna mai abbattersi di fronte alle difficoltà, anzi bisogna andare sempre oltre E lei mi ha sicuramente insegnato ad approfittarne quasi delle difficoltà che la vita ci impone per vedere, vediamo come posso cavarmela adesso, che cosa mi posso inventare, non accontentarci mai Poi scusami però questa è la mia impulsività e la mia energia che mi porta a dire questo ma poi alla fine io voglio poi sentire effettivamente il pubblico come reagirà E per me è l'unica cosa che conta perché adesso non posso essere oggettivo, forse non lo sarò mai per un film che faccio io quindi poi il pubblico sarà veramente il vero grande giudice Però la verità è che quello che già si respira oggi che è un film di pancia, emozionale nelle risate, emozionale nei pianti, quello che io che dico in inglese è good cry E' quasi bello abbandonarsi alle lacrime perché poi specialmente in questo periodo, diciamo non facciamo finta che non siamo in un periodo particolare Questo film ci ricorda casualmente per una serie di convergenze astrali delle cose importanti come la famiglia, gli amici che ti scegli, chi sei e cosa vuoi essere E ci ricorda anche che la vita è un po' questo mix tra tragedia e commedia e anche se viviamo una tragedia bisogna sempre mantenere veramente una positività perché è l'unica cosa che ci farà uscire fuori in maniera sana E tanti colori pastello Tantissimi 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 Grazie ragazzi in bocca al lupo per Sul Più Bello che uscirà nelle sale Grazie a voi Speriamo comunque che vedremo al più spesso il 21 dal 21 ottobre Grazie Gaia Masciale, Joseph Giura per Sul Più Bello, evento speciale ad Alice nella Città Io sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider Fred P Radio, sono Chiara Nicoletti dalla diciottesima edizione di Alice nella Città Sono con Ludovica Francesconi e Giuseppe Maggio, i protagonisti di Sul Più Bello, evento speciale qui ad Alice Ciao Ben ritrovati, ci siamo visti qualche ora fa per la conferenza stampa ma siete appena usciti dalla prima e i vostri coattori stavano piangendo, qual è lo stato d'animo, com'è andata? Io sto metabolizzando, forse è che sono seduta perché sono piena di adrenalina, davvero sto cercando di capire che emozioni sto provando, sono tantissime Giuseppe che è più abituato? Sì, sono più abituato però a parte il film è stato, ci sono stati gli applausi, ci sono stati, non lo so, 5, 6, 7 minuti di applausi e quello è stato dopo il film, come è finito, si accendono le luci, iniziano questi applausi quello è veramente scioccante, ci vuole un po' di tempo per riprendere consapevolezza di quello che sta accadendo Sì, si ricorda oggi parlavamo di quante cose ci siamo resi conto che ci mancavano, questa è una di quelle, la sala che condivide la drame, il dramma e le risate con te, l'atmosfera lì, quello mancava tanto Sì, ho detto una cosa, per carità di Dio è un paragone che non ha senso, però io ho fatto una serie che ha avuto molto successo su Netflix però quando si accendono le luci ricevi un applauso, dal vivo non esiste niente che può essere paragonato Cioè tutto il successo che è mondiale, siamo d'accordo, ma avere lì fisicamente una persona che ti guarda agli occhi lucidi si è commossa, sta piangendo e ti sta applaudendo è una roba che è impagabile Allora, raccontatevi, raccontateci un po' i vostri personaggi, due opposti che si trovano e si aiutano Cambiano entrambi, ecco, un'esplosione di voglia di vita e una vita che finalmente prende colore Marta è un personaggio che è molto positivo, che costantemente cerca di depennare cose da fare, esperienze dalla sua lista prima di arrivare alla sua data Di conseguenza cerca costantemente di vivere tante esperienze quanto può, ma queste esperienze devono essere le più belle di sempre e quindi tutte le cose positive e migliori che possono accadere per questo decide di farsi dire ti amo dal ragazzo più bello che esiste Essendo umana, lei a sua volta giudica come... anche se... scusate sono emozionatissima, sto ripensando ancora al film Allora, Giuseppe iniziate, grazie Allora, per quanto riguarda Arturo, la cosa che mi ha divertito per esempio notare ora vedendo il film, io l'avevo già visto e non l'avevo notata questa cosa L'arco di Arturo è evidente anche nelle battute e nel modo in cui queste battute vengono dette perché mi sono reso conto che in maniera totalmente involontaria all'inizio del film vocalmente io cercavo un'impostazione vocale, quindi andavo a battere in maniera più decisa sulle parole mentre dopo le buttavo molto più via E davi anche risposte più convenzionali tra le risolette superficiali Esatto, brava E questo è un po' l'arco di un personaggio che grazie soprattutto all'incontro con Marta ha svoltato la sua vita è stata una svolta, è stato un cambiamento radicale perché lei gli ha dato dei colori probabilmente che lui non aveva o che se aveva non credeva di avere quindi se parte con un colore blu per esempio grazie a lei riesce a conoscere tutte le sfumature e le gradazioni di quella tonalità e quindi poi a diventare anche lui come lei un arcobaleno di colori Non so se eravate fan o comunque conoscevate questo tipo di filone a cui il film, seppur italiano, quindi un unicum, si accosta e segue perché credo che sul più bello abbia una cosa in più nel senso che è molto realistico ma allo stesso tempo ha quei toni un po' più sopra le righe che aiutano proprio a dare quel poco di leggerezza per poi paradossalmente stare ancora più dentro la storia e poi non vuole chiudersi nel senso che c'è una fine ma non c'è una fine non so se queste piccole cose le avevate notate, le avevate apprezzate ecco come avevate vissuto questo essere in un genere che poi invece è la sua specialità nel genere Io sono cresciuta con i teen movie quindi mi piacciono tantissimo e mi hanno seguita da quando ero piccina fino alla mia adolescenza e tuttora quando mi va recupero qualche film che ha segnato la mia adolescenza la differenza credo che sia nel fatto che sul più bello non è un cliché il fatto che tutti i personaggi non sono né estremamente buoni né estremamente cattivi e oscillano come facciamo noi nella realtà e quindi tutti quanti affrontiamo le nostre debolezze e così lo fanno i personaggi e quindi anche Marta alla fine riesce a mettere a nudo le sue fragilità e il fatto di ammettere che è malata e questo lo riesce a fare soltanto grazie ad Arturo e quindi credo che sia questa la potenza del film Ma io non sono cresciuto con questi film mi è capitato di vederli però diciamo non è il mio genere non nasce come il mio genere Quello che però mi è sempre capitato di notare è che vedendo questi film il protagonista era la versione praticamente mancata di un principe azzurro o giù di lì e la ragazza era o bruttissima orrenda oppure era una ragazza anche lei una principessa incredibile che poi si levava gli occhiali si metteva gli occhiali ed era considerato il brutto anatroccolo si levava gli occhiali ed era secondo me la cosa bella è che hanno trovato hanno con lei e con me due personaggi abbiamo costruito due personaggi che sono molto più vicini alla realtà perché il personaggio di Marta la ragazza Marta non è una brutta ragazza è una ragazza normale e il personaggio di Arturo è un ragazzo normale sì bello ma non è il bello assoluto questa cosa rende il film molto più vero più verosimile è la storia di chiunque può essere la storia di chiunque perché noi siamo esteticamente delle persone normali siete belli pure tanto grazie ragazzi grazie a Ludovica Francesconi Giuseppe Maggio protagonisti di Sul Più Bello evento speciale d'Alice nella città e nelle sale italiane dal 21 ottobre grazie mille in bocca al lupo grazie ed io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider Fred P. Radio sono Chiara Nicoletti dalla diciottesima edizione di Alice nella città sono con Roberto Proia e Alice Filippi autore del soggetto sceneggiatore produttore e regista di Sul Più Bello ciao ciao a voi grazie mille dell'ospitalità allora la genesi di tutto da che è partita innanzitutto dalla mente di Roberto Proia allora sì la cosa è partita da un foglio bianco di Word su un computer e da un'idea l'idea era quella di fare un film di intrattenimento un film commerciale che però avesse anche un messaggio che in Italia difficilmente viene è una cosa che viene sperimentata viene fatta quindi o c'è il film commerciale o c'è il film di messaggio secondo me le due cose in America convivono da decenni volevamo provare a fare un'operazione di questo tipo quindi abbiamo preso un genere che è il team dramedy che in Italia va molto e abbiamo cominciato a costruire abbiamo cominciato a scrivere questa storia volevamo renderla diversa dalle altre in cui appunto abbiamo sempre l'eroe e l'eroina che sono malati che sono particolarmente attraenti quindi come dire quasi a controbilanciare una sfortuna che hanno avuto in realtà questa ragazza non solo è malata ma non è particolarmente attraente e ci abbiamo aggiunto anche che è orfana ma è la persona più positiva di questa terra è una persona che si focalizza sulle cose che ha e non su quelle che le mancano non su quelle che la vita non le ha dato ma lei prende le cose che ha e le valorizza le usa a suo piacimento per poi ottenere ciò che vuole questo è il messaggio che volevamo dare all'interno di un grandissimo film di trattenimento dove si ride tantissimo ma si piange anche tanto Alice come sei approdata a dirigere questa dramedi la Eagle e Roberto Proia stavano cercando hanno scritto questa sceneggiatura e cercavano un regista per metterla in scena hanno fatto un po' di colloqui e sono capitata io una selezione durissima in realtà è vero perché comunque è stata una selezione molto dura perché non era facile trovare la persona il regista che ci seguisse in questa avventura che ripeto non è mai stata fatta e Alice è stata e ha dimostrato di essere la persona perfetta per il ruolo io quando ho letto la storia mi è piaciuta tantissimo da subito perché credo che raccontare una storia positiva che dia un bellissimo messaggio anche ai ragazzi sia anche un valore aggiunto al film e Marta mi ha conquistata con questa sua positività con questa sua energia ci insegna a non abbandonare i sogni ma è vera è reale perché è un'eroina della porta accanto perché ognuno di noi si può medesimare in lei perché lei non è perfetta e nessuno dei personaggi che abbiamo raccontato è perfetto tutti hanno dei lati negativi dei lati positivi lo stesso Arturo sembra perfetto ma in realtà è molto fragile è molto insicuro e quindi come noi perché noi ci mostriamo in un modo ma poi dentro siamo differenti e credo che anche in un'epoca dove l'apparenza sembra contare più di tutti dove i ragazzi tendono anche a voler assomigliare quindi a non avere una propria personalità ma a volere vestirsi come il proprio mito a essere come gli altri è un peccato e bisogna ritornare ad avere la propria personalità infatti Giuseppe prima nell'intervista ha detto una cosa interessante a cui non avevo fatto caso e poi invece ha fatto click che il suo personaggio ancora più di quello di Ludovica in realtà proprio nel suo arco di cambiamento anche il modo con cui dice le cose e ciò che dice cambia all'inizio è molto convenzionale superficiale dice quello che ci si aspetta che dica e poi all'improvviso tutto prende veramente un'altra forma ma anche fisicamente è stato cambiato lui ma anche banalmente i capelli pian piano si sono fatti più scapigliati l'abbigliamento si è fatto meno formale l'ultima scena lo vediamo in fail per il t-shirt è un ragazzo ma all'inizio del film si veste come un adulto perché è quello che ci si aspetta da lui ecco prima dicevamo che segue un filone che non è per niente italiano di ecco della drame di del teen drama ma anche della della cyclit però fa qualcosa di diverso e lo fa anche stilisticamente quindi qualcosa di cui non avevamo parlato prima in conferenza stampa mi chiedevo come avevate giocato su questo proprio sullo stile del film quei colori pastello di cui abbiamo parlato con con Gaia e Joseph ma in generale c'è anche un bel contrapunto tra Torino che sembra l'apparenza così geometrica e poi invece tutto questo questo colore ecco quando ho letto la storia ho pensato una storia pop che rappresentasse anche con l'immagine con i colori la personalità di Marta e quindi ho cercato di fare un lavoro con il direttore della fotografia la scenografa e la costumista un lavoro veramente di sintonia insieme per ricreare questo mondo di Marta che però fosse al limite non fosse un mondo surreale di fantasia perché ci crediamo sempre a questa storia non è non ci porta mai in un altro mondo e però ci rappresenta quale sono anche le sue emozioni nell'inquadratura e nella messa in scena la simmetria la ritroviamo forse nelle inquadrature che sono molto simmetriche molto bilanciate anche come Torino che è simmetrica e bilanciata quindi la possiamo ritrovare in questo però sì è una Torina un po' innovativa perché è una Torina colorata ecco invece avete detto una cosa di pancia qui sono venuti piangendo gli attori emozionatissimi Ludovica tremava anche un po' invece qual è la vostra emozione adesso appena usciti dalla sala mi dicono ci sono stati tanti tanti applausi ci siamo ricordati del bello della sala allora allora no le emozioni vanno sedimentate per potergli dare un nome quindi è difficile è appena successo quindi diciamo che a caldo mi vengono in mente due cose la prima un pochino più razionale cioè il fatto che comunque la maggior parte dei commenti dicesse che il film non sembra un film italiano intendendolo come un complimento nel senso un film che ha valenza e potenzialità internazionali per la fattura per tutto quanto la seconda invece è una cosa emotiva mia personale perché il film è dedicato a una persona che non c'è più e quindi aver aver visto come dire la reazione del pubblico a questa storia è stato quasi è stato un omaggio che a me ha emozionato moltissimo la prima di una lunga serie nel senso che ripeterete questo esperimento di dramedi visto che ricordiamolo quello che hai detto che questo film è stato le vendite internazionali se ne occuperà voltage che è una cosa prima la prima volta che un venditore americano come voltage che è quello di after si occupa delle vendite internazionali di questo film allora i nostri personaggi a noi i nostri personaggi vogliamo molto bene e in 90 minuti è difficile esplorarli tutti sono tanti sono variegati sono fantastici e hanno una chimica che difficilmente si trova quindi è difficile decidere di lasciarla andare questa chimica quindi diciamo è possibile che le rivedremo grazie Roberto Proia Alice Filippi per Sul più bello evento speciale ad Alice nella città e nelle sale dal 21 ottobre io sono Chiara Nicoletti per Fred da Festival Insider Fred P Radio sono Chiara Nicoletti dalla diciottesima edizione di Alice nella città sono con Eleonora Gaggero e Alfa interpreti innanzitutto e poi autrice del libro tratto dal film e autore della corona sonora e del brano portante Sul più bello di Sul più bello evento speciale ad Alice nella città benvenuti grazie grazie mille allora innanzitutto lo stato d'animo usciti da questa premiera che mi hanno detto tantissimi applausi grandissime emozioni e molti dei vostri co-protagonisti e co-attori piangevano qua abbiamo avuto vari tipi di tutta la gamma di emozioni abbiamo fatto qui io non ho pianto perché l'avevo già visto d'altro ieri non so se potevo dire cioè comunque come se l'avessi visto la prima volta mi sono emozionata tantissimo comunque è sempre bello vedere attori come anche Ludovica dare così tanto allo schermo ed è sempre emozionante lo rivedrò anche dopo domani e poi anche due giorni dopo fino allo sfinimento però non mi stancherà mai io invece l'ho visto la prima volta pianto come un bambino e credo che piangerò anche dopo domani e dopo dopo domani è un film davvero intelligente che mi ha colpito in tutto e per tutto sono contentissimo di aver fatto la colonna sonora e allora a che punto sei arrivata Roberto oggi parlava di come hai avuto voce in capitolo anche sul poster e quindi a parte abbracciare questi personaggi fino a portarli in un libro ecco ma qual è stato il tuo percorso con Suo Più Bello? allora mi ricordo che ho conosciuto Roberto quando abbiamo presentato qua al festival la famiglia Adams quindi un anno fa più o meno e mi ha detto guarda ti voglio proporre questa cosa perché secondo me sei la persona adatta per raccontare il film in un romanzo perché sapeva che appunto scrivevo che Suo Più Bello sarebbe stato il mio quarto libro e quindi abbiamo fatto questa riunione e abbiamo parlato e mi ha detto che voleva anche darmi appunto il ruolo nel film ed è nato tutto quanto in quarantena alla fine l'ho scritto insieme alla maturità e è uscita fuori diciamo questa cosa è stato difficile soprattutto all'inizio perché se le storie le scrivo io è più facile perché posso decidere quello che cavolo fare come farlo finire invece dover rispettare comunque una scaletta più o meno di scene o comunque di situazioni di personaggi è stato complicato all'inizio ma mi sono abituata e è stato divertente Tu invece ti sei ritrovato anche attore ecco che esperienza è stata e poi parlando della colonna sonora come mai l'ukulele? Allora intanto ho scritto anch'io durante la quarantena la canzone ed è stata una cosa davvero di getto in 10-15 minuti avevo la canzone potrei trovarti qualche motivo artistico ma in realtà è che avevo comprato un ukulele su Amazon 5 giorni prima e quindi ho unito le cose mi era arrivata questa richiesta tramite mail avevo un ukulele vicino e ho detto proviamoci quindi credo al destino credo alla fortuna per quanto riguarda il cameo ho scelto io la canzone perché i ricchi e i poveri sono liguri come me come noi e insomma sarà perché ti amo un classicone del karaoke quindi mi sembrava giusto di cui Roberto è molto fan io lo so e invece Eleonora il tuo personaggio lo dicevo oggi in conferenza rappresenta un po' veramente uno dei temi del film quanto ci soffermiamo alle apparenze e delle volte sbagliamo a fissarci nel modo in cui le persone ci vedono quasi in trappola che ne pensi diciamo che mi ci sono trovata molto perché anche io vivo tanti pregiudizi da quando sono piccola soprattutto poi andando al liceo che vivi in una situazione normale ma non sei normale perché fai altre cose extra scolastiche se così si può dire e quindi quando mi sono approcciata all'inizio al personaggio di Beatrice mi sono ritrovata perché appunto come la gente pensa che magari lei ha una vita perfetta perché appunto è benestante carina di aspetto e quindi mi ci sono ritrovata molto è stato un bel lavoro perché poi alla fine secondo me si riscatta perché appunto come dicevo Marta l'ha un po' salvata perché rischiava poi di vivere nel suo loop e non rendersi conto che non stava vivendo davvero ma viveva secondo dei canoni che altre persone le imponevano come anche i genitori di Arturo Qual è secondo voi già il valore aggiunto di Sul Più Bello che già l'ha fatto vendere internazionalmente che quindi sta a prescindere da come sta andando oggi come andrà già riscontrando grandi critiche positive ovviamente la colonna sonora solo unicamente la sensibilità secondo me come con intelligenza e sensibilità si toccano alcune tematiche pesantissime con quel sorriso amaro che ti che ti lascia attaccata allo schermo e ti dà un colpo alla pancia è vero e secondo me a parte i scherzi la colonna sonora aiuta tanto perché alla fine aiuta è stata fatta molto molto bene la fotografia anche è pazzesca anche te non sei stata male nel film bravo io mi dimentico mi fai complimenti anche io faccio il complimento grazie grazie facciamo complimenti e basta adesso e poi Ludovica sicuramente perché è stata bravissima siccome lei ha portato il film perché ha un sacco di energia è riuscita a trasmetterla bene e poi insomma quello è un bel film io direi più culele più colori pastello più liste più annunci speciali al supermercato per tutti esatto decisamente però non fibrosicistica quella soprattutto in questo momento e speriamo presto di tornare a goderci le piccole cose alla normalità grazie Alfa grazie Eleonora Gaggero per sul più bello evento speciale ad Alice nella città e nelle sale italiane dal 21 ottobre io sono Chiara Nicoletti questo è Fred da Festival Insider